Lei è Jolie, 5 mesi, eppure è stata proposta in adozione quando non aveva 3. Jolie è dolcissima, sempre stata dolce e calma rispetto ai fratelli. In realtà una richiesta lei l'ha avuta subito, ma non è andata a buon fine, perché la famiglia ha preferito comprare un cane piuttosto che adottarlo, e alla piccola Jolie non è più capitato di ricevere richieste. Così lei è cresciuta, è passato tempo, è sempre rimasta dolcissima e bellissima, il faccino, lo sguardo è sempre quello. Inoltre la sua taglia non è tanto grande, peserà un 12 kg e da 5 mesi, quindi non è che debba crescere chissà quanto. Insomma una cagnolina adorabile, farà la felicità della famiglia che la sceglierà, ma dovete sceglierla però questa piccina. Purtroppo siamo in estate, lo sappiamo, le richieste di adozione non arrivano, e per i cuccioli è rovinosa una cosa del genere, perché il loro carattere peggiora, si chiudono in se stessi, diventano timorosi, poi quando vengono adottati e portati nelle case è un problema portarli a spasso, portarli in città. Dove rimanere in canile questa piccina? No, speriamo di no. Lei è stata messa al mondo in campagna, la mamma ne aveva fatti 8, ma noi siamo riusciti a portarli in canile quando ne erano rimasti 5, perché 3 non li abbiamo più trovati, sicuramente qualcuno li ha presi, e non sappiamo come li abbia trattati poi, o se sono ancora vivi questi piccoli. Quindi Jolie dovrebbe essere stata fortunata a venire qui in canile, ma se ci resta, non lo so fino a che punto potremmo ritenerla fortunata. Povera piccolina, così dolce, merita una famiglia. Adottatela, non lasciatela così. Buona fortuna Jolie, ciao piccolina.